eccoci bestiaccia incredibile stavolta con una colorazione tendente al normale non sono più grigio non so come mai mi sono dimenticato del giorno della memoria che domani è festa quindi domani domani è festa bestiaccia domani non fate un cazzo nessuno di voi tutti quindi quindi a sto punto è il giorno della liberazione a sto punto domani non facciamo la live me la prendo anche io ve lo dico già ho cambiato programmi così almeno mi rilasso e ci vediamo direttamente lunedì ve lo dico già adesso con questo con questo con questa sfrontataggine perché sì almeno mi prendo una giornatina in più mi rilasso un attimino pure io perché qua a fuori di star dietro i cani e alle 1800 cose della casa compreso ovviamente il canale che occupa praticamente tutta quanta la giornata anche se voi dietro le quinti non lo vedete non lo vedete ecco almeno mi prendo anche il domani e vaffanculo che mi sono rotto il cazzo di farmi quattro ore di montaggio per fare una clip di un minuto di tiktok non ce la faccio più ho bisogno veramente di che cazzo è successo il portergheist il portergheist in casa è caduto una foto una foto molto intima ho una foto di me nudo attaccato al pc per ricordarmi perché cosa combatto per ricordarmi perché cosa combatto come state bestiaccia tutto bene è allora cerchiamo di ripeto ricepiamo il messaggio domani non c'era live detto questo il 12 giugno si avvicina il 12 giugno si avvicina il 12 giugno vi arrivo alla switch oled serigrafata di zelda voi sab mi raccomando siateci non vedo l'ora di potervi regalare questa bella cosina ovviamente io andrea anche il maestro che ringrazia il vostro supporto ogni giorno vi ricordo anche che a breve arriveranno giochi intensi del calibro di diablo diablo 4 stra diablo cazzo sta per uscire diablo cazzo perché è un vecchio meme del canale ragazzi tranquilli tranquilli diablo cazzo sta per uscire e quindi preparatevi perché probabilmente almeno un oretto almeno una live la facciamo sul gioco oltrepassando quelli che dovrebbe essere il tutorial e via di sbadiglia ancora mi sa che devo farmi un caffè dopo vi porto con me a prendere un caffè switchiamo la live da pc a telefono vi faccio non è vero assolutamente no non sono in grado di fare una roba del genere non credo che non credo non credo esista la competenza tecnica per fare una cosa del genere se sì qualcuno mi informi se è fattibile lillo milanesi grazie mille milanesi milanesi grazie mille bestiazza e poi chi altro talim per i 200 bit attenzione sabrina per la subs belbareth vinca fox poi chi altro poi chi altro gege petros attenzione abbiamo già una reaction figa no obscuritas mezzuomo chiede di reactare a obscuritas ricordatemelo perché poi dopo la giocata lo facciamo grazie il barbuto per i 10 allucinante allora bestiazza adesso saluto tutti quanti oggi giochiamo a questo guardate vi piace aspetta questo è l'host in vivo in vivo quello il nostro cane talmente tanto protagonista che lo vediamo per cinque secondi in basso a destra dello schermo eccolo lì che succede il cane meglio vutan sì grazie pixie dragon avevo letto meglio di vutan mi stavo già incazzando ragazzi una persona che un cane arancione non è una persona seria iniziamo già con una persona che sceglie di avere un cane arancione già non è una persona seria quindi togliamoci questa cosa diciamo va bene è il problema dentro la cristalleria noi siamo gli elefanti cerchiamo un attimino di iniziare a schivare un po i pezzi rari unici di manufatturato italiano cerchiamo di non romperli quindi non rompiamo questo bellissimo vetro di murano soffiato a bocca a forma di non lo so di ipogrifo che corrisponde al nome dei cani arancioni fanno schifo procediamo ecco infatti il cane arancione come avete visto in questo piccolo nanosecondo viene rapito dalle acque delle fogne e poi il nostro compito è quello di infognarsi e andare a cercarlo ma che vuoi chiaccata mi chiedo io sei già nervoso sì ma sempre ormai non so che cazzo c'ho aiutatemi per favore buonasera buonasera bentornati benvenuti un piacere guardate che cazzo vedremo stasera cosa dovremmo affrontare pur di riprendere il nostro cucciolo perché nessuno si deve azzardare nessuno si deve azzardare nessuno si deve a mangiare il nostro cane eccetto noi e quindi guarda guarda disturbante disturbante in inglese disturbance e questo gioco qua non si riderebbe da qui perché in questo momento è anche la definizione fa un po cagare ma è un gioco in psx con la grafica da pxx quindi che va a ricalcare la grafica della playstation 1 cioè wow quindi è anche rientra anche ma che bella treccia rientra anche in quel genere che ci piace a noi il genere che fa cagare perciò non vedo l'ora ragazzi di stare male visivamente di stare male anche spiritualmente alla ricerca del nostro è la storia di un witch sì è vero alla ricerca del nostro cane arancione siete pronti come i cinesi in che senso a perché il cane perché il cane arancione certo allora mi ricorda cry cry of fear sì sì è quello è quello però questo no però questo non va va no però questo questo qua non è fatto con quel tipo di grafica lì semplicemente in pxx chi ha chi chi c'è chi c'è ambretta helsine il marta poi chi altro che abbiamo dax indiaco rebecca alex devil ciccio pungo ajax il xaio xa xao il re della montagna il barbuto georgia panzerotto napoletano buonasera lei ig ciao mi chiamo brian eccolo lì becky mugan ra poi rebecca a kane jinx chiamami cap bestiaccia eccolo la avrom garold le t biscotto aurora boreale marco istoria 92 krill maurius lamodava poi chi altro lamoldava credo ci sia il guerriero dragone winka fox ultimo blaze ops gael wolf girl wreck it vt saia lesia e chi altro chi altro sneaks per girl ragazzi io sono dislessico per favore con una semplice donazione all'otto per mille per favore fate un qualcosa fate qualcosa per i vostri nomi perché veramente tipo questo nome semplice yotun facile capito con la j nemesis luke caffè caldo fedipap iunaxx ma perché la s la h nello stesso momento è sbagliato è proprio concettualmente sbagliato come i cani arancioni alissa isabello chi è che di voi è un cane arancione moderatori fate partire un 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 sondaggio in chat quanti di voi hanno il cane arancione voglio sapere voglio sapere quanti di voi quanti di voi sbagliano poi chi altro poi chi altro puoi salutare marika no poi raf shizoku valeri e poi bebs è l'ultimo dai l'ultimo ma non ultimo intanto votate per il cane arancione scram scaram eccoci qua bestiace un piacere bentornati stasera si gode insieme ciao marika ecco così non faccio la figura dell'arrogante pezzo di merda anche se è il mio secondo nome 28 per cento di voi ha un cane arancione ma come è possibile adesso 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 basta allora quanti cani arancioni esistono nel mondo 5 animali di corone arancioni allora i cani arancioni sono mio dio sono un bel po effettivamente quali sono i cani più rari del mondo ma che schifo è sta roba no non dovete non dovete fare queste ricerche fatto sta che ve lo dico adesso in percentuale ben il 25 per cento dei cani della popolazione canina ha una colorazione la pigmentazione del pelo arancione siete minoranza c'è un motivo mostra le foto di no no c'era un cane con la cresta rosa non va bene era se era glabro senza peli grigio con la faccia così e aveva la cresta rosa ma io scherzavo no e allora no le votazioni della sua votazione seria valgono i gatti no i gatti sono banditi da questo canale io non so più come dirvelo pastore tedeschi non sono arancioni sono biondi sono tedeschi ti giuro che il mio è blu eccola è una donna toma tu guarda eccola e faccelo vedere adesso mi sembra un po esagerato prima conosciamoci un pochino ma io ho venti gatti figa il gattaro ciao occhi azzurri anche i cani con gli occhi azzurri sono sono belli dai sono costretto a dire che sono belli no ammetto francamente che il cane per me per avere un occhio da cane che da fiducia agli occhi come i miei color merda non lo so perché però effettivamente no l'aschi è il male puro l'aschi è il male puro è un cane territoriale un cazzato che sta lì questa si crede bellissimo questo apportamento tutto sto imparando sto imparando molto con i lupoidi e devo dire che il che l'aschi è veramente uno stronzo bellissimo cane ma veramente uno stronzo non si è mai accorto forse perché è un cane così arrogante e così sull'attenti così un po altezzoso forse perché purtroppo è nato con la coda riccioluta gli dà fastidio di avere il buco del culo all'aria 24 ore su 24 questo lo sa gli dà fastidio sente la sua stessa puzza e non sopporta più la sua esistenza però d'altronde si capisce proprio dallo sguardo sorria il cogito grazie mille bestia c'è lo zio trash però gli aschi sono effettivamente bellissimi non belli quanto vuotan non belli quanto vuotan i chihuahua i chihuahua sono creature di morte nate per cacciare i serpenti pensate voi pensate sono nate le usavano in messico per cacciare i serpenti da lì messicani allora bestiacce stasera incredibile lost in vivo lost in vivo morbido il chihuahua dove lost in vivo gioco dove appunto dobbiamo salvare il nostro cane arancione il nostro cane arancione da boh non si capisce io direi di partire iniziamo si gode lost è vivo allora giochiamolo in questa definizione sì devo già andare in bagno preparatevi ok gioco fatto da kira si capisce che perlomeno è fan del sollevante feeling same isn't feeling that you can feel non ho capito un cazzo di sta frase questo gioco usa 3d non abbia letto warning this game contains violent imagines and flashlights il volume è no allora volume minchia ma sono fuori di testa così e così forse va un po meglio mettiamola metà va com'è ragazzi datemi un feedback datemi un feedback aptico ho messo il fovo più grande del normale perché sennò era 45 dato che questo gioco dovrebbe teoricamente giocare su diverse fobie tra cui la claustrofobia quindi se siete claustrofobici eccoci un po bassino molto meglio va bene chi l'è carraban bestiaccia grazie mille voi cinque sapete che ringraziare è lui è quel pazzo lì che ogni tanto si spoglia e da soldi in giro per strada abbassa un pochino è stata una bella live non dì ma con voi ragazzi le live sono sempre belle come si fa nel senso volete più basso di così ma aspetta facciamo una roba guarda abbasso da qui dal mixer ok e abbasso anche il volume delle mie cuffie perché non voglio prendermi troppi infarti ecco che poi non so se in gioco sarà così alto ok credo che così vada bene credo è ok con le frecce dobbiamo giocare con le frecce continuo eh no new game oh ne non vedo l'ora so are you feeling do you feel this session are still helping immagino siamo da un qualche strizza cervelli you could try something a little more direct ok possiamo provare con qualcosa di più diretto we could start in a vivo exposure therapy vivo exposure therapy vivo exposure therapy va bene che cazzo è sta roba ma quindi quello che stia quello che vivremo è tutto un esperimento mentale beh non solo è arancione non ha neanche le zampe io non ho il batacchio ma sai credimi che iniziamo bene toh le fogne ma c'è roba giù cazzo non ho i sacchettini per raccogliere eh ragazzi dovrò andare di mano nuda oppure vedete psx per questo per questo motivo qua il gioco appunto è in in ricorda è tutto quanto pixelato che dovrebbe ricordare per un certo senso i giochi playstation 1 risultato è che non ricordo i giochi playstation 1 semplicemente sembra pixelato ma io lo gradisco molto a me piace come roba francamente poi dipende è veramente un corgi l'ho detto è arancione certo è un corgi di due metri e mezzo però è arancione c'ho un po' d'ansia che vuoi tu posso correre no che cazzo è successo hiroshima no a game a kumakira ok attenzione i miei occhi beh non è quello il problema bene attivare tasti permanenti no ma che cazzo vuoi cioè sto schiacciando sto andando avanti col gioco e mi attiva i tasti permanenti il cane fa akira si si akira matata si sta rompendo tutto oh warning che c'è scritto last scene nel 2007 è stato visto chi ma che è ma che vuoi non ho capito cosa cazzo la fosse penso immagino debba essere un cane credo belle le case tutte uguali non ho mai capito per quale motivo ogni volta che vedo un'esplosione o sento un'esplosione e fidatevi capita più spesso del normale qua a Milano guardate i notiziari ripenso a Sandokan non so perché vedo buio l'ansia sale più che altro perché il cane è lento rispetto a noi vabbè c'ha 15 anni potremmo anche capirlo quando è che qualcosa lo afferra dal lì da 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 dove si testa basta vi prego il volume vi supplico basta non ho neanche l'ombrello mannaggia il cazzo eh questo qua d'altronde caga sempre alle 7 di sera to l'ora di cena devi uscire piove pure ma non è neanche mio il cane cioè è dal vicino madonna il cane è impassibile comunque credo sia sordo che è che cazzo è che che succede oh beh se il cane non abbaia va tutto ma che è successo l'ho gettato io è palese no no nick king chiuai eh chiuau e c'è un gatto perfetto vedi il complotto ah press f to toggle the flashlight ok minchia no ma è il papà di morti gary no minchia partiamo male eh fido hey angry demon no 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 ost cross per cazzo vado sinistro destra ragazzi votate voi che cazzo è questo qua sarà lo sviluppatore credo che qua in fondo a destra non ci sia niente eh infatti annaccia mia perché ci sto andando ahhh 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 quel suo sguardo da cucciolo c'è una luce c'è una luce però tutto si risolverà tutto andrà per il meglio mchia però graficamente non è male per niente ragazzi considerando appunto che è fatto con ah scusate space to whistle ma siamo deficienti eh abbaiato eh è di là è per di là Lorenzo Junior e Yanis Junior è di là curvi lama lama ma che cazzo succede bello però che mi mettano i nomi degli sviluppatori così ci sta cioè che carino come concetto Grim Rosen attenzione cat calling o dog calling piano piano sono tre ore di gioco così questa è merda ha caratteristico colore il verde immagino sia di qua esatto procedo sento uno strano suono datemi un'arma vi prego un oggetto contundente ah ma c'è c'è un sistema di illuminazione che è eccesso la cosa mi mi un po' mi inquieta ok credo che stiamo uscendo da quelle che sono le fogne otaku punch che mondo fantastico il giappone ha punk tra l'altro non punch ma vabbè the all key odio il key ma ma mi spegnete sta merda per favore ah ho paura a parte che ogni tanto si sente un leggero gemere ah ma basta premi i to check the inventory ok abbiamo l'inventario flashlight ok torn leash ha giustamente il guinzaglio del cane key ring the key ring that holds all the key i have quante chiavi ha due qual è il segreto del successo di questo di questo ragazzo il suo segreto ragazzi è questo come disse il giapponese vi ricordate pilota di corsa famoso mio segreto tanto chiavare poi abbiamo lost tape 1 on all the tape i found at home if i find a tape player i should listen to it vabbè sti cazzi ma poi sto cos'è game manual ah il menu di gioco left control sprint e per interagire reload ah ci sono le armi abbiamo vinto dammi l'arma per favore ma che grafica incredibile beh non ho più paura di niente adesso no non posso ma posso spegnere la staccacata ma no signora non posso come che vi trovo dei giochini horror poney 23 ma minchia che ansia sti disegni ho letto bidella defender dinella a dindella 0 3 2 3 ricordiamoci questo numero per favore che potrebbe tornare utile 0 3 2 3 è qua si stiamo avvicinando i zir ho paura no perché è così è così caratteristico mi ricorda casa mia adesso inizio a cagarmi sotto madonna santa odio odio questa cosa no no vi prego ho paura che qualcosa mi stia seguendo alle spalle non so perché 0 3 2 3 bravi ricordatevelo non penso sia una bella idea fischiare non la baia più il cane figa no chi è che sta fischiando ho leggermente a parte un brufolo sul braccio ho leggermente la pelle d'oca leggermente non comunica più procedo frega il cazzo ho vinto madonna madonna mette leggermente l'ansia però sta roba non sono pronto minchia è ma che ok ragazzi è un corridoio ed è un gioco horror via ho vinto buoni tranquilli ho il controllo so cosa sto facendo ah piano basta non fischia più ok ma non c'è qualcosa da prendere da cattar su cos'è sta roba ma che meraviglia che specie è wow ma che suono fa il martello fa lo stesso suono di quando tirano in faccia un pallone d'aria un pallone di plastica bello gonfio quello da spiaggia proprio senti senti ma che cazzo sto guardando pizza pezzi di carne ma che è sta roba ok qui ci abitava qualcuno there is no much on the tv nowadays hai spaccato la televisione so it's off I make my own show bene quindi ho pensato di fare il mio show da solo I started putting food and the rancid meat in the useless old box and all shorts a little creatures will come and play ah giustamente ha rotto la televisione ha ficcato dentro un pezzo di carne arancida e da questa magicamente sono comparsi piccoli esserini che hanno iniziato a giocare e a sbranare la carne così è una cosa che facevo anch'io da piccolo quando giochi a fare diogo le formiche ci butti dentro un po' di tutto il dito del bambino mai più ritrovato quelle cose simpatiche che si fanno quando si è in tenera età but that smell the crittens started attracting ledger ones to the show ah quindi perfetto some horrid putrid things keep coming by to watch qualcosa di grosso e putrido viene qua a vedere a vedere lo spettacolo quindi faccio finta di dormire e se ne vanno però penso che sappiano che io sia sveglio mi stanno guardando no 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 il cane non risponde cosa ho fatto ok quindi qualcosa qualcosa sta arrivando minchia non ce la faccio ma che cazzo è non ci riesco troppi cunicoli troppi cunicoli che schifo ma quanta gente dormiva qui cos'è quella roba ma cosa c'è oh posso cambiare l'angolazione del martello posso colpire o a destra o a sinistra figo non so che cazzo serva però my eyes are useless all they do is sting and show me stuff they can be real if that resigned things went to them then I saw that it have them bene quindi abbiamo anche dei pazzi la gente qua insomma non sta bene teme di noi madonna ti meno eh non è mai un ti più è sempre un ti meno boni ok non posso non posso passare ma io non sono arrivato da qui ah no da lì figa ragazzi mi sta venendo una leggera ansia buonasera salve bentornati questa è casa mia ma che cazzo succede che puttana ma sei cretino che cazzo è P P di che Q P questo è il tizio senza occhi che diceva prima si è cavato agli occhi per non vedere più le bestie eh convintissimo che io vado a salvarlo no 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 ma che è sto suono ma che cazzo fischio figa ormai l'ha preso it comunque aiuto 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 non voglio vedere minchia no 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 che cazzo siamo finiti che è sto sto party music hanno cercato di aggredirmi poco fa con un coltello e ci sono riusciti ma la mia vita dove la vedo elf 100 time ah sono le 10 di sera che cazzo è un rave party vado madonna perché madonna perché è perché è perché è che è stato ho vinto oh l'opo abbandon come devo entrare qua dentro sei sicuri figa non mi fido di nessun ma perché perché c'ho l'ansia che qualcosa che è stato sono stato io sono stato io spavento si ma anche lei ci si mette adesso dove devo andare di qua figa no mi prendo a martellata in faccia non voglio vedere e io guardo giù e io guardo giù non sto non so dove non so se devo seguire ancora il fischio del cane io non ne ho idea non aiuti e non è colpa mia mi dispiace dove cazzo devo andare mi sono perso mi sono perso no 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 che cazzo corri 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 per l'amore del cielo si vai verso black sabbath oh oh mi sento così al sicuro eccoci qua oh finalmente mica che inferno e si pessime idee si ma il problema il problema principalmente di questo gioco è il volume dovuto più che altro al fatto che non sta accadendo nulla ma nei timpani questi mi stanno ma che è che è sta roba vabbè non voglio farmi domande questi mi stanno trasmettendo suoni bineurali atti a lento rilascio del rilascio delle endorfine a breve mi sentirò stanco e o innamorato vedrò un attimino dove cazzo devo andare perché si è spenta la musica vabbè vado a destra non lo so che cazzo è fufì ehi tutto be porca di quella miseria che cazzo è che tipo di cane è quello ma non può nulla oh mio dio beh quando sono cuccioli sono sempre belli però mamma mia ma che posto malato è quindi è questo quello che c'è nelle fogne non credo di farcela ragazzi non credo di farcela giocare questo gioco buonasera buonasera schifiltà salve non disturbatevi non disturbatevi va benissimo così ah mio santo cielo c'è una gabbia aperta 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 uno è uscito se è dietro di me mi incazzo com'è è dietro di me è dietro di me non voglio girarmi non voglio andare avanti non voglio stare fermo ma che cazzo è sto gioco mannaggia ma sembrava puccioso c'era il cane ma che cos'è che no no rimetti l'audio rimetti la musica angosciante subito è più angosciante il silenzio che cazzo è 007 madonna in questo in questo cunicolo in questi condotti con una struttura architettonica classica fatta a svastica forse troveremo il nostro cane quando è che qualcosa all'improvviso dietro di noi si avvicina e fa scusi e io salto per aria ok abbiamo cambiato figura geometrica che faccio vado di qua che faccio vado di qua excuse me vado andiamo no pick up pick up head gun pick up che da dove cazzo l'ho presa non mi piace qui è uscito qui è qui 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 c'è una grata rotta ho 10 proiettili ti sparo in bocca figa cammino così minchia no madonna santa abbiamo un'arma va bene ma problema mamma mia che ansia ma che ma che gioco è sinistra destra quello è il cane ragazzi scusatemi devo proteggere la mia persona perdonatemi non va bene è di un altro colore cioè nel senso non è il mio che cazzo sei ma che minchia sta succedendo save che bello game saved ok mi fa molto piacere che cazzo è successo ragazzi scusatemi sì la prima cosa che ho fatto appena ho rivisto il cane è stato sparargli ragazzi ripeto o me o lui cioè nel senso è ovvio che lui sia il cattivo no però ragazzi ma tutto il gioco così no scusatemi se qualcosa scivola dalla sommità di questo percorso e mi finisce a bocca aperta in faccia in telecamera io spengo comunque complimenti perché anche in queste situazioni vedete c'è sempre da un occhio di riguardo per chi purtroppo ha delle delle incapacità delle disabilità e qua c'è la rampa vedete anche qui bill stickers ah ma siamo siamo in quelle che sembrano delle metropolitana io sono armato scorge 707 scusatemi un attimo che vorrei no non posso cazzo non posso uscire trash please chatty waker dragon killer figa no mi sento meglio una ventata d'aria fresca per il mio cervello è diventato cryo fear ora non so se sia positivo questo il trucco per smettere di mangiare morire transit office l'ufficio dei trans c'è roba immondizia locked perfetto ian watt deve essere pugliese wattin chi l'è dude grazie mille per stiare l'accelerato oh le scale ma io sono un uomo un uomo di fitness per dio quindi so come riservare le energie e come conservarle aiuto dove era il cane magia ora qualsiasi sano di mente l'avrebbe pensato che è sto suono ma siamo cretini ma che cazzo è ma è malato sto gioco train office key pick up ok abbiamo le chiavi per l'ufficio bene 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 non possiamo scendere giù dai binari purtroppo pensiero abbastanza classico blood disgust gross bene gross abbiamo le chiavi ma abbiamo anche triggerato un evento io lo so vi meno veramente coi piedi se non la smettete mannaggia station closed ok e quindi e come ci siamo arrivati qui si possono aprire ste robe no ho sprecato già due proiettili open the station no madonna santa cazzo di ansia ok il volume è altissimo in sto gioco ok abbiamo aperto la stazione così a caso olè quindi mo che cazzo vuol dire che abbiamo aperto la stazione scusami ma in che senso abbiamo aperto la stazione ah ma su ma non c'era già un vagone non c'erano già dei treni cioè non c'era già il treno col vagone madonna vado sempre mi siedo sempre in fondo ragazzi che succede ok mi sento di dire che è fatta i can see inside who is conducing the train il cane è il cane che è il cane è la risposta è il cane e poi comunque c'è il comando automatico non vorrei dire ma adesso fanno tutto un po' in automatico so che mi sto per beccare un jumpscare maestro ragazzi read i don't want to go i just want to stay on this train i want to stay che cazzo è che è no no accendi ma dove fermi basta che figa non mi muovo da qui guarda si 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 madonna no vedete che leggere fa male ok si è chiuso dietro si è chiuso dietro si è chiuso dietro calmi 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 che è la mia pistola è la mia pistola è la mia pistola è la mia pistola ah ah Open cosa, open? Che ho fatto? Ma che idea del cazzo Che brutta, pessima idea Ma riparterà il treno e si tira sotto Ma chi è che sta guidando, scusami? The power is off Che culo Non mi piace Non mi piace, giornata di merda Io lo so che riparte il treno Lo so che riparte il treno Mi schiaccio contro il muro Ho il controllo Ma che cazzo di gioco Ho fatto molto Da un punto di vista Allora ragazzi Mi sto cagando sotto No, no, no Aspetta Volevo vedere cosa c'era Ma voi siete scemi Rimandami di là Subito Preferisco una zona abbastanza aperta Ma posso ricendere per i binari e continuare Quindi per le stazioni Fido Visto Volendo potrei Ma Vado No, non posso Mi sono bloccato Che culo Grazie, grazie Niente, c'è un muro invisibile ragazzi Non possiamo Però qua c'è qualcosa da leggere I want to make a decision I want control back in my life I want to matter Everyone just makes choice for me Maybe I'll find some place where I can be happy Some place dark without people to remind me how ugly I am I'm sorry Bene Bene C'è un po' di depressione in questo gioco Una leggera depressione Io sento piangere ma a sto punto non so se siano i miei cani O se sia il gioco Locked Perfetto Perfetto Non poter andare avanti Significa soltanto una cosa Che i mostri che ci sono dopo non possiamo vederli Meglio Ma vaffanculo Immagino che qua non posso fare un cazzo Dobbiamo passare di qua Madonna no Mi tocca entrare Sì mi tocca entrare Ok abbiamo visto tutti quanti quello che pareva essere un piccolo l'arenella Quella è la classica arenella ragazzi Quando ci avete un po' di sabbia nei reni Questo è quello che avete dentro Allora bestiace Se vado a pisciare Perché sono un essere umano anch'io E torno subito Voi nel mentre riflettete su ciò che siete E sul perché lo siete Va bene Torno subito Comunque porca puttana Falla tutta No no Ma più che altro Io penso che siamo soltanto al tutorial del gioco E non va bene Capito Non va bene Arrivo Ciao till Legion Mi Grazie a tutti. Eccomi. Ma Dino, non hai tirato l'acqua? Sì, perché volevo farvi una sorpresa, altrimenti mi avreste sentito ritornare. Che flash, hai visto? Grazie, grazie, grazie. Scusatemi, mentre approfitto per prendere un minuto di pausa da questo abominio. Ok. Ora vedete che nel gioco addirittura c'è la possibilità di diminuire la nostra sensibilità, vedete? Sensitivity. Diminuisci la sensibilità e... Niente, hai meno paura. Però io l'ho già diminuita al massimo, più o meno. Questo è il risultato. Pa, 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 pa. Allora io vado, eh. Molto pulito, comunque. Molto luminoso. Qua cosa abbiamo? Bene. Non posso aprirli, questi. It's Old Game Called Midnight. Ma cosa? Ah. Midnight. Va bene. Per PlayStation 1. PlayStation 2. Uno, sì. Ma sti cazzi? Cioè... See you dare. If you dare. Possibile mai che... Non devo dirlo. Stavo per dire, è possibile mai che non abbiamo incontrato ancora nessuno? A qualcosa dovrò pure sparare, no? Belo qui. Va va qua. Allora, abbiamo la solita stronzata. Relais e fusibili. Ci siamo. È proprio la mia vita. Un'altra chiave. Delle... Delle... Meravigliose ciambelle scadute. Che cazzo è sta roba? Un quadro? D'arte contemporanea. Quelle che sembrerebbero essere... Noi siamo qui, giusto? Penso di sì. Quelle che sembrerebbero essere... Le mappe del sistema di manutenzione. Immagina un sogno. Immagina il sogno. Qua non possiamo aprire. This wall station is just broken. Lines are run backwards. Ashes plannell are hard to get to. And something the power just cuts. Bene, qualcosa ha stoppato la corrente. Buono. Saying this is considered a bad part of town. The funding for this station was minimal. And most of the construction was done by local residents. Bene. To top of it of the last maintenance guy messed up everything. He told me when he left to keep every light on. And to either redirect and send off any trains that arrived. I've made several attempts to fix the electrical problems. But it's so bad I don't think he's getting anywhere. So I'm leaving. This job just isn't worth the hassless animal. The hassle animal. Quindi non funziona un cazzo in sostanza. Ma grazie alle mie competenze. Ecco fatto. Abbiamo risolto il problema. Bastava tirare una leva. Credo eh. The power goes out of the tracks. You have to reboot the whole system. In order to do that, go each section and turn off the breaker boxes. No. Then come back here and restart the system. I've barely been able to keep the power on. So that's about all the advice besides quitting I can give. Bene, buono. Allora, questi sono i generatori. Dove, noi dove ci troviamo in questo momento? Qua? Possibile? Non ne ho idea. Forse qua. Forse se noi ci troviamo qua. Non lo so. Penso di sì. Dovevamo uscire. E... Cristo. E va bene. Prendi la mappa, Dino. Si può prendere? Non so se si può prendere. Ma vaffanculo, si può prendere. Ma allora, noi dove siamo? Ok, noi siamo qui. Nel punto rosso. Perfetto, avevo ragione. Che credibile. Ok. Adesso noi siamo qui. Perfetto. Ma dove sono loro? Figaro, 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 Figaro. Figaro, Figaro, Figaro. Ce la possiamo fare, ragazzi. Ok, allora. Andiamo alla seconda scala. La prendiamo e andiamo a sinistra, nella parte blu. Dovremo trovare un altro di quei generatori. Credo, eh. Accendiamo la luce. Un po' alla volta. Con calma. Non mi spaventerò mai. Guardate. No. No. Ti picchio in testa Figa Ok Quindi qua a sinistra abbiamo Uno dei generatori Però prima esaminiamo questa stanza Perché magari troviamo qualcosa di utile Come ad esempio Non lo so Carta e penna Mi posso abbassare Ah mi posso abbassare E questi? Ah no pensavo fossero martelli Pensavo fossero delle armi Più forti di quelli che abbiamo già It's bloody co good Bene 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 Dicevo magari troviamo qualche cosa di utile Una bottiglia Un buon liquore Qua? Non c'è un cazzo però Per adesso Il gioco è easy Figa no Sotto le poltrone c'è qualcosa E anch'io ho visto Minchia Ho visto anch'io Dell'uccichio ma non è vero DJ Aya Buono Io non posso fare Un cazzo Buoni 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 Controlliamo stanza per stanza eh Broken Perfetto Che culo No 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 il bagno no Il bagno no quello delle signore No 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 Arca puttana No 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 a parte che non esisto ma Subject and force Wow C'è scritto qualcosa lì Lo leggerò dopo Eh! E' qui Eh! Ho vinto What happened here? Non lo so, ma qua teoricamente ci cambiano i bambini Ora, o il bambino l'hanno Bucciato anziché cambiarlo, perché le istruzioni erano poco chiare Eeeh O non lo so Cioè, non so se qui l'hanno cambiato Il bambino o ce l'hanno fatto uno Non ne ho idea Ma andiamo a leggere I don't know what to do I'm not happy I'm so ugly And everyone treats me like I'm not even real Ci sarà un motivo You are so pretty and perfect And that's all you They all have friends But I'm just here Perfetto, questo qua è triste perché è brutto Boney, eh? Ora andiamo a visitare quello dei maschi Degli uomini Did I have an older walker? Ma che cazzo C'è un item da prendere lì Il piscio caratteristico ormai Direi abbastanza classico Ma lo so che succederà Pezzo di fango Ma lo so che cosa accadrà più Sì, mi sono acquattato per terra Nel piscio, sì Roger Armor? Boom baby Yes Mi hanno trovato un caricatore nel bagno dei maschi, vedi? È proprio Ora bisogna capire se questo gioco è esattamente come Come cazzo si chiama? Cry of Fear Si basa sulle nostre paure Sulla nostra psicologia E quindi i mostri sbucano un po' a cazzo I jumpscare sono un po' a cazzo appunto O se effettivamente una volta che controllo la stanza e non c'è nessuno In quella stanza non c'è nessuno Non lo so però Non lo so Per adesso sembra abbastanza realistico Verosimile Dove cazzo mi trovo? Qui Eh ma io non mi Sono arrivato da lì? Sì perché questa è la stanza rotta Ok Soddisfacente come ricarico la pistola Scarrafaci Wow Madonna Sembra Sembra pulito Ma dove cazzo mi trovo? Ah ok sto proseguendo Sto andando da retto C'è una prima stanza da guardare però Aspetta Io ho come la sensazione che una volta che accendiamo il generatore Parta Veramente Uh qua si può uscire È bloccato Cazzo Ho come la sensazione che appena Accendiamo il generatore Quasi tutte le porte chiuse Si aprono ed esca di tutto Sono praticamente le backrooms Non lo so Non lo so Ah scusate Broken Cazzo Avevo l'occasione di fare un catcalling nel bagno E non l'ho fatto Cristo un po' inquietante Non trovi? Sono tutte rotte ste porte Chissà che cazzo ci esce adesso No 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 Che cosa sta succedendo? Posso aprirle? Ma perché non posso? No Non posso neanche aprire gli armadietti Magari si trovo un piede di porco però si Permesso Voilà Ok 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 allora Ci siamo Leggiamo cosa c'è scritto qui Qui c'è un altro codice Ma mi immagino che sia roba caso ormai It was a slow day when it happened Only two trains haven't stopped here And I didn't see here until I was too late I hear Her sobbing as we And she walking down the tracks I went there on and save her But I couldn't hear the train I just waited and listened So must have Regretted and it was last moment Because I heard her scream Si è ammazzata una Cioè sono passati due treni E si è ammazzata una persona Un normale lunedì I can't stop here She passes through the wall Eh? All I can do is wait and listen No 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 Di che cazzo sta parlando No 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 Dice che può oltrepassare i muri C'è capito C'è capito Porca di quella No 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 Via! Come ma Puh hein Noni no 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 Riporta tutto come la prima Bastardi Oh Cristo Che schifo sei Oh Dio Non ho più munizioni Merda Ne arrivano altri Ne arrivano altri Io lo so Che cosa è stato? Ok Con calma Mica, quello è enorme quel posto Andiamo prima di qua, va? Che sembra essere più piccolina questa stanza Non ce la posso fare Non ce la posso fare Ok, qui è tutto acceso Qui è bello, qui è bello È tutto giallo però, è bello Qui non ci succederà nulla Vedi? Ho tutto sotto controllo Munizioni? Set pick it up Ho trovato qualcosa per Aprire le Le porte, immagino Pick lock set Due set di Grimaldelli Non ho munizioni E non so perché la pistola Abbia ricaricato Bene Il caratteristico suono di un martello che colpisce qualcosa Perché è un martello di metallo, ragazzi È un maglio d'acciaio Quindi qualsiasi cosa che colpisce diventa d'acciaio Sentite? Visto? Locked from the other side Vabbè Vabbè Sono l'uomo chiave Aspetta No Basta Allora Teoricamente qua è il nostro obiettivo Quindi io laggiù non ci voglio andare Semplice Quanto cazzo ci vuole per aprire un lucchetto? Success Visto? Non c'è niente qui Figa no 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 Quest'incubo di nuovo no Apri No 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 Eh Apri Oh figa No ragazzi Non si apre più Che cazzo vuol dire? Dove sono? Ah dove è la mappura di serie? Vaffanculo Merda Merda Non so se mi sta inseguendo o meno Sta arrivando Sta arrivando Oddio Crepa Ok 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 Ah 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 Quanta vita ho? 64 Ma Crepa Eh Ok 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 Veloce Apri Dai Ah No Ne arriva un altro Ne arriva un altro Io non so se ho abbastanza vita Dai corri Uh 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 Eh mo Uh Yes Ho vinto Ma sono messo di merda con la vita 56 ragazzi Come dovrei fare È impossibile Però abbiamo aperto due delle Eh Abbiamo Abbiamo Siamo riusciti ad attivare due dei cosi lì Degli affari Come si chiamano Dei Dei Sono solo le 10 e 38 Io non posso continuare questo gioco Eh Read Pointless prison Read che? Ma che cosa ho trovato? Scusami Ah It's so nice I feel like I'm madder again It makes me feel real It tells me that I'm madder It doesn't think I'm so ugly Ma che Ah Ha trovato l'amore Qualcuno con dei gusti di merda In sostanza Il caratteristico Il caratteristico suono del vento Ah Bene Allora da qua non siamo già arrivati Eh infatti ho sbagliato Allora dall'altra parte Vabbè dicevo ne abbiamo trovati Da due di tre Dai È easy Si può fare Ecco è questo che mi preoccupa Questo piano qui Monday is coming Got frame Scroll the adventurer Adam Laila Avete rotto il cazzo con sti nomi No però basta vi prego C'è un item laggiù Cos'è? Che cos'è come una falina Tratta dalla luce È un fucile a pompa Shotgun Boom baby E da dove cazzo l'ho tirato fuori Oh si Ok non ho più paura di niente Questo gioco è appena diventato Da horror A A narrativo E no però Allora io sono lì Quindi la mia destra Si chiude Ma c'è una porta E alla mia sinistra c'è il corridoio Conviene andare di qua No Ah ok Quindi qua c'era la guardia del posto What is that? E che cazzo è? Non lo so Se non lo sai tu Last tape to pick up E non si può Non posso mettere E non posso mettere dentro la videocassetta Scusami Andiamo un po' E non me la fa selezionare Lost tape Lost tape to It's made like chemicals The clinic is written on it Ok Ma Sbaglio una citazione nirvana O sono fuori testa io It's broken Perfetto Si una citazione nirvana Sono io O era una citazione Era un pezzo dei testi Del nirvana Quello della tv Non è il cane Ma Ragazzi ho visto Una macchia arancione Possibile Ma non credo sia il cane Quello Attenzione Guarda L'interno del colon Ci sparo un colpo Quale? Non lo so Daxian Ma non so perché Ma ho pensato a nirvana Possibile Smell like a ten spirits Non lo so Non lo so Non ne ho idea Non ne ho idea Che cazzo Ne so In nirvana Non so mica Non depresso io Ti adoro Devo 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 Levare il Il coso Per le zanzare Allora siamo qui Attenzione Qui è da dove i mostri Usciranno dopo C'è Bene Ci serve una chiave Ma tanto ho un fucile a pompa GPS al cane Gli stava antipatico Ma secondo te In un mondo Dove abbiamo ancora Questa tecnologia Le flashlight a tubo Le flashlight a tubo E i nastri Mangianastri I nastri Con i mangianastri Secondo te Esiste il gps Nel cane Possibile Ma immagino Che se fosse Stato inserito Nel cane Si sarebbe visto Perché probabilmente Era una radio Grossa così Infilata su Per il culo Dell'animale Quindi non credo Che ci siano ancora Cioè Credo che sia Siamo in un periodo storico Dove Il gps ancora Non c'era Da mettere Nel cane Il chip sottocutaneo Si Sottocutaneo Il cazzo Proprio Una roba grossa Così Però Vabbè Insomma E per il bene L'animale No E per non perdere 1800 euro di cane Dove devo andare? Di qua? Perché Devo trovare No Devo No Non so dove mi trovo Aspetta Se vado di qua Ah ok Eh si Dobbiamo andare di qua Ragazzi Perché sicuramente Da qualche parte Troveremo I I Grimaldelli Essendo circa Il 2007 Perché dovrebbe essere Il 2007? Chi l'ha detto Che è il 2007? Sarà tecnologia Abbandonata lì Ma no ma ragazzi Ma io nel mio zaino Avevo questo Lost tape Ah no Beh c'è scritto Però è vero Un vecchio nastro Che ho trovato a casa Effettivamente Quindi potrebbe essere Un nastro Che non apparteneva a noi Quindi ci può anche stare Effettivamente Ma intanto Gli altri cani Gli altri cani di là Si evolvono In creature rampanti Potrebbe essere Dunque Il 2000 Agno 2000 Non so se esistevano I chip Sottocutanei Che cazzo è stato? Ti vedo Ti vedo Pezzo di merda Ti vedo Fango Vieni fuori Stronzo Ti vedo Ti stai pure muovendo Vaffanculo No Come faccio? Lo v- È qua È qua Bastardo Esce pure il sangue Guarda Vieni fuori Madonna mia E menalo Non riesco Non riesco a fare nulla Allora Stanza di destra Vediamo un po' La stanza di destra No Ho sbagliato Devo andare di qua Stanza di destra Vediamo se c'è qualcosina È rotta Eh Quindi Torniamo di là Poi dopo me la devo fare Tutta quanta a piedi Olè Esatto Eh no Di qua Esatto Per di qua N'è vero? È giusto? Sì 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 Sembra che finché non spegniamo la luce I nemici non ci cino fuori Quindi possiamo pararci il culo Da questo punto di vista Tranquilli So quello che sto facendo Ok ragazzi Sta per arrivare l'inferno Ma io ho otto colpi Immagino che questi stronzi Vadano giù con Con un colpo solo Via Ah 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 Oh 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 Quanti sono? Apri la Porta! Veloce! No, no, no! No! Dov' e? Chi e? Perchè? Corri Corri, dove sono? Di qua Destra o sinistra? In fondo a sinistra Destra, sono uscito da lì Non lo so Sbagliato Vai, vai, vai Vai, 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 vai Dove? Dove? Di qua? No, di là, no Di qua, di qua Corri Brocken, che cazzo bro Non vedo Dove sono? Ma che è sto posto? Shotgun ammo? Ma perché? Che cos'è? Dov'è? Aiuto Ma fa' c***o Via Aspetta E mo? E come esco? No, devo tornare indietro Ho sbagliato Ho cannato tutta la strada Merda No, 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 no Ok, 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 ok Ok, ok Carica Non voglio vedere Affanculo Aiuto, 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 aiuto Me la sto, me la sto giocando egregiamente Quanta vita ho? 94 Visto, 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 visto Devo, devo andare adesso però nel posto giusto Allora Allora Non vedo un c***o Non capisco un c***o Dovrebbe esser di qua Possibile? Sì? 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 No? Lasciamo perdere Continua a correre Tanto abbiamo stamina infinita Vai Vai Olè Yes Madonna Madonna Minchia Non so perché mi facciano così paura, ragazzi Perché in fin dei conti non è che sia così terrificante come esperienza È il suono che fanno È il suono che fanno Scusate, sperdonatemi Sperdonatemi Ho sbagliato Ma era così prima? Fliccherava la luce? Allora Per andare Dove devo andare Vado di qua Giusto? Immagino di sì Esatto Vedi? Non la può nuoscermi Poi per di qua Perché dovremmo aver fatto ripartire il treno Teoricamente Sappiate che questo gioco si aggira dalle 5 ore alle 98 Quindi Diciamo che Se avete tempo da perdere Questo gioco Fa per voi Non si è spenta la luce Perché questa cosa mi inquieta ancora di più Gli interspiriti? Ok Ok Qua ci siamo già stati Ok Oh Sì sì Salva A posto Abbiamo salvato anche la partita Perfetto Dobbiamo ricordarci dunque Che le porte colorate Con quello Sono i salvataggi Con la lucina Sono i salvataggi Ma che cazzo era? Ah vedete così possiamo ascoltare i nastri Che figo Ma che bella la grafica Le animazioni Loading? No ma perché l'ho fatto? No Ma chi cazzo me l'ha fatto fare? Ma non lo voglio più fare Fammi tornare indietro No Ma perché? Perché non mi faccio i cazzi miei? Che pessima brutta idea No Chi è? Che è? I'm sick Ok È malato È un ospedale? Sembrerebbe di sì E quindi? Oh madonna mia Perché? È un ricordo questo Che cos'è? È un ricordo del cane? Che dice sta roba? Mamma Madonna mia L'audio è eccelso Perché sono qui Sono malato Ma ma stringili un po' di più le pareti Per favore Ci passo troppo Poi bene Let me out Ma è gente prigioniera qua dentro Ma nelle fogne Che è stato? Batman? Figa Che cazzo è? Behave Orga Bam Bam Ah anche qua posso fischiare Non so Luce giallo o luce blu? Giallo o blu? Veloci Blu Che cazzo Sto guardando Dove minchia sono finito ragazzi? Qualcosa C'è qualcosa di sbagliato con loro Ma dove? No 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 È un incubo È un incubo No 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 Io non so dove sto andando ragazzi Lo sapete vero? Lo sapete che io non so? Tu sai che io non so vero? No È tutto È tutto inutilmente complicato Ma quanto cazzo ci sto mettendo? Vorrei smetterla di soffrire Ma non finisce più Ma Cos'è? La folta crescita I peli pubici sopra Qua non posso passare Ok ottimo Sopra quelle che sembrano tubature Una certa importanza e rilevanza Eh? Ma che roba Dove stiamo finendo? Cos'è? Cos'è? Cosa cazzo è? Per un attimo pensavo di essere un tordo appena caduto giù dal cesso Ed effettivamente eccolo qui Gli uomini di merda Ma che è? Quindi possiamo anche fare livello 1 volendo Così eh Perché non mi basta Sarà un altro ricordo malato e macabro come questo? Minchia Ma poi anche lì Orca! Ma sai Che cazzo? Eh sì Puttana vaca Ah qui forse è quando siamo andati a prendere il cane Maiali non sono cani questi Ok sono ricordi distorti tipo Madonna Bolt Cutter's Pickup Bolt Cutter vuol dire A parte che ho letto Bolt Cutter Taglia palle Ma Il mio canile Penso sia Un po' preoccupante Eccolo! È lui! Boh Ma cos'è? È un raviolo Non è un cane Ti salvo io E dove cazzo è da andare questo cane? Lo vuoi? Devo pagare o? Non ho idea di cosa stia succedendo Ma donna è disturbante Ecco cosa succede quando per errore metti la testa nel forno a microonde Ok Ok bestiasce Questo è la prima ora e mezza Slash 2 di Lost in Vivo Non voglio andare oltre perché veramente qua sto faticando Sto gioco è terrificante A mio avviso Non immaginavo Tra l'altro graficamente è veramente bellino Perché poi Tralasciando Le texture Cioè la scelta di farlo pixelato Con questo stile Appunto PSX Non propriamente PSX Ma Minimal Mi piace Mi garba un botto Le illuminazioni sono veramente una figata Ma che roba dai c'è E da vicino fa cagare Ma da lontano c'è il suo colpo d'occhio Guarda guarda come muta Come trasforma È tipo un mosaico Da lontano lo vedi Dici wow Però non è male Cioè Ma che È graficato eh È graficato E Tra l'altro più che altro È horror È fottutamente horror Carino anche Carino anche il gameplay Enigmi molto classici È un cry of fear È un cry of fear Cioè proprio Ci siamo Però vabbè non importa I richiami sono quelli Ma ci sta Bello anche il fatto che tu possa direzionare i colpi Girando il martello destro a sinistra Carino come meccanica Non serve un cazzo Però è carino come meccanica Magari appunto se vengo Se sono qua Dietro Dietro il Questo spigolo Posso colpire in questo modo Solo che l'animazione è sempre la stessa E se sono dall'altro lato faccio così Vedi E l'animazione è sempre la stessa Perfetto Vabbè Comunque Allora bestiasce La prossima volta lo continuiamo Sì perché io qui non entro Soprattutto dopo che un giapponese Ha lasciato cordialmente qua Le sue belle scarpe La prossima volta lo continuiamo E andiamo avanti Con quello che è Lost in vivo In vivo Alla ricerca del nostro Cane arancione Wow Wow Immagino mi faccia però Ripartire da Dal bagno Perché lì che ho salvato Are you sure? Yes I'm sure Sono una costa I love the im better than all Vabbè sta parlando del cane Immagino Allora da 1 a 5 ragazzi Piccola votazione Dai moderatori Fate partire sta roba Come valutate questo titolo? Come valutate questo giochino? Uscito nel 2018 Epoca in cui I cani Potevano Potevano essere dotati di Chip Microchip Sottocutaneo Fate mettere una musica Per rilassarci Perché io figa Ne ho bisogno adesso Francamente Madonna santa Ah Eeeh Aspetta che è fuori dal Dallo schermo E eccoci Votate 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 4 4 su 5 Il 60% di voi Mi spiace per chi vota 1 Lo fa per il meme Per carità Però io non voglio veramente sapere cosa ne pensate del gioco Sono twitchoso Sono arrivato ora Eh mi dispiace Mi dispiace Quindi in generale il gioco vi piace Quindi seria giudicata Perché questa era stata la prima Ma era un punto di domanda E' uno dei tanti giochi che ho trovato su itchio Poi questo qua è anche disponibile su Steam Quindi l'ho acquistato Perché mi andava di dare Il soldo dello sviluppatore Metto un po' d'ansia E beh figa E' un horror Serie Allora dai Continueremo Lost in vivo Demonologist Ragazzuoli Adesso Francamente Stiamo pensando un attimino Di fermarci Perché Sì Stiamo vedendo le nuove mappe Però è sempre la stessa roba Il gameplay Quindi Momentaneamente ci fermiamo Anche per dare Un contenuto diverso Magari Troviamo un gioco da fare In cooperativa con Andrea Cioè serve un gioco Cooperativo con Andrea Che non sia un horror E basta Ho deciso di tatuarmi Ho vinto Ci sta Quando si torna al supermercato Eccolo Non lo so Non saprei Questo è un bel horror È un bel horror Sì dai Ma perché Quando mai noi non abbiamo portato Non abbiamo portato Dei giochi horror Ma una caccola nell'occhio Non mi dite niente Ma vergognatevi Ma vergognatevi Guarda il trailer di Devotion È un horror strabello Lo conosco Devotion L'abbiamo già neanche portato Alternate Watch già Non lo portate più No alternate watch Lo portiamo Ma ragazzi Ma alternate watch L'abbiamo già finito Abbiamo fatto tre gameplay Cazzo Basta Per un po' ci fermiamo Gollum no Ho chiesto rimborso No no Ma ragazzi Ma vi pare che spendo 50 euro Più quella merda Dai Ma per favore Capisco che faccia ridere Ma abbiamo fatto un'oretta Abbiamo visto cos'è il gioco Fine Buonanotte Buonanotte Ho litigato con il rider Perché era a ritardo di un'ora È stato esilarante Ho avuto la stessa discussione Più o meno all'incirca due giorni fa Con un simpatico omino Che è venuto a portare il cibo E che si lamentava del fatto Che non fosse andato a prendere L'ordine alla porta Ma lui mi stava aspettando fuori dal condominio Dopo che gli ho detto Ah sì sì Entra pure Sono E gli ho dato tutte le indicazioni E lui no È rimasto fuori dalla porta Fermo Così Io C'è meno male che ho Il citofono Con la Come si chiama Con la telecamera Perché l'hanno appena messo qui E ho notato che stava fermo Quindi sono uscito E gli ho detto Guarda che se me lo dicevi Uscivo Però dimmelo Incazzato nero Incazzato nero No non si tratta così la gente Aveva questo accento Ho detto Cosa ti ho detto Ho detto Entra Se non mi dici no Non posso entrare O no non devo entrare O no non ho capito Io che cazzo ne so Mi rimani fermo lì E tu Saremmo rimasti in eterno Io fisserei il monitor del citofono E tu fermo con i mano il pacco Un loop Un blocco Stemmine di zanzara nel mentre Si In realtà ammazziamo falene E i papataci Ma le zanzare non muoiono Ci sono reaction per te Daxin Le stavo ignorando Grazie Resident Evil 4 Non lo porto più No l'abbiamo già detto ragazzi Non lo porto più Perché ha Ha fracassato i coglioni Nel senso C'è altro da giocare The Boogeyman Allora vediamo un po' The Boogeyman Ma è un film O un videogioco Se non me lo specificate Perché qua Io ho detto Reaction A gioco Film Serie tv Ma io non so È un film O un videogioco Caro Hoho Che cos'è È un film Penso E allora guardiamolo Effettivamente c'è un trailer The Boogeyman The Boogeyman No horror di Stephen Di Stephen King Oh finalmente mi avete chiesto Un film Che bello Grazie ragazzi Mi fa piacere Treller ufficiale Buono Ho già fatto vedere tutto In cinque secondi Di scena Ok Una bella casa coloniale Che ricorda I bei vecchi tempi Del Di che cosa hai paura Sento un cazzo Ah aspettate che Io sono deficiente Ho abbassato il volume Delle cuffie E quindi non sento un cazzo Aspetta eh Io non vedo niente Io non vedo niente Ok Controllo mostri Completato Vabbè Insomma È il live action Di Monster & Co Però il personaggio È rimasto caucasico Strano Ah è questo no? Questo cos'è? Un remake? Bene No ma tranquilla È il papà Che è diventato una seppia Ma che cazzo fai? Cretina Ma veramente Meriti Ma ti devi nascondere Sotto le coperte L'ABC No No Deficiente Ma non l'hai mai visto E ti Aaaaaah Ma Madonna È bellissimo È bellissimo È fatto benissimo Lo voglio vedere subito Dalla mente geniale di Stephen King Esiste da sempre secondo me Nascosto Minchia che inquietante È alto e magro? È la fine È la mia È la mia ansia Nell'oscurità Nell'oscurità Ha rovinato tutto Dai produttori di Stringer Things Oh basta Non voglio più vederlo Sono solo quei terribili mostri Che pensi che si nascondano sotto il tuo letto Spero non abbia una CGI di merda Perché Super 8 Che credo sia sempre di tratto da uno dei libri di Stephen King È un bellissimo film Thriller horror Che Parla di questi ragazzetti che trovano un alieno dentro un cargo merci Di un treno E intanto ci fanno un film Con la pellicola La pellicola Super 8 Che era uno stile di pellicola E Un formato di pellicola Perdonatemi E Però era un po' una merda Dal punto di vista CGI Perché era tutto in CGI Spero che questo non sia in CGI Cioè non sia solo CGI Sarebbe bello vedere un po' i costumoni Che cos'è? Perché uno invecchia meglio Oh c'è lui Io Quest'uomo ha la stessa faccia Da quando Ha rubato il bambino In The Prisoners È sempre È sempre lui A volte lo sguardo Tu almeno mi credi Vero Bello trailer Bellissimo trailer Rob Savage Roberto Selvaggio Prossimamente al cinema Che cosa sto guardando? Top film al cinema Perché parlano come Andrea? Non male Non male, è carino Fatemi Fatemi vedere altri trailer di film Sono strafelice di questo La madre fa cagare ad osso Lo conosco la madre Non l'ho visto Ma lo conosco Red Grazie mille Grazie mille a tutti quanti voi Perdonatemi se non vi ho cagato finora Ovviamente stavo giocando Poi cos'altro avete chiesto? Quale altra reaction? FPS Newblood Interactive Dusk Che cazzo è Dusk? Non so che cazzo Ma è di cinque anni fa È questo? Penso di sì C'è un trailer per Nintendo Switch Non ho idea se sia questo Newblood Interactive Sì, qui è scritto Newblood Sarà questo David Schmitz Non ho letto Andrew Hulschwitz Non ho letto Dusk Kill the intruder È questo? Kratos, sì È questo? Oh, non l'hanno toccato però Morale 46 Vita 170 Quindi è un gioco a scelte Allora, a me i giochi FPS Arena Alla Doom Si è chiaro Mi ispirano Ma questo non so perché Mi dà quella sensazione Che sia molto GD erroso Old school quick like FPS Uh, la Kimbo Kimbo È buono È buono qui Ma tu cosa sei esattamente? Un 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 Contadino Ah, poi Lift bar Loot Fica, però sto male Ma il Ku Klux Attenzione Certo che Non va giù, eh Flick Vabbè, è carino però Non è male, dai Non è male Che ci sta È molto soddisfacente Come FPS Perché flash the toilet? Così, a casa Beh, giustamente What the? Ci sta, è carino Molto veloce come gioco Vomiterò Dieci minuti dopo averlo scaricato Porca di quella La Kimbo di fucili a pompa Ebbene, è indistruttibile questo A me non dispiace comunque Ci sta E sta roba c'è su Switch Come fai a giocare a sta roba su Switch? Assomiglia a Doom Ebbene, sì 3 colpi di fucili a pompa Sono top Comunque È un prodigio Chi sta giocando a sto gioco Deve essere coreano Vabbè ragazzi 14 minuti di sto gioco Però anche no Carino Ci sta Ci sta Dusk Vediamo se c'è su Steam Che magari me lo gioco Per i cazzi miei Non credo di portarlo in live Ragazzuoli Perché mi sembra un po' Cioè è molto ripetitivo Però Lo sapete L'ho detto l'altra volta Non sono tanto per gli FPS Però ogni tanto Per sfogarsi Ci può anche stare Però non li trovo Qualcosa da Cioè li trovo abbastanza ripetitivi A meno che hanno quella componente horror Come in questo caso qui Come ad esempio questo Questo Lost in vivo Che alla fine di FPS C'è tre cagate C'è due pistole Basta È più la trama È più quello che devi fare È più l'enigma È più capire come muoverti Eccetera Però non è per niente male Non è per niente male Poi mi piacciono i giochi Che vanno quel tocco vintage Ci sta Bellissima anche la copertina Quei demoni Con le corde Wow Bello E nelle mie corde Complimenti Candyman Candyman Dino Cos'è un altro film Attenzione però Perché ho un'altra reaction Da fare Qualcuno di voi Mi sta chiedendo Attenzione 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 Obscuritas Mi chiede Mezzuomo Il mezzuomo Mi chiede Obscuritas È un film O un videogioco Immagino sia un videogioco Obscuritas Ha un euro e 49 Nella media Un gioco fatto Nel 2016 Guardiamo E questo È Obscur Obscur Che cazzo è Obscuritas No Perché Cos'è che ho fatto Cos'è Se hai resa conto Che è morta No Già mi cago Già mi cago il cazzo Guarda questa roba Ragazzi Ci sono molti misteri Che la scienza Non è in grado Di spiegare Guarda Ma li lascia Lasciamoli là Va benissimo A volte Va bene non sapere Obscuritas Va bene Sembra Ah Sembra qualcosa Che Due spagnoli hanno fatto Con un telefonino In qualche hotel Sconcio Però va bene Ci può stare Cioè Oddio Non mi dà Niente di particolare Però È qui Carino Che trailer brutto Però È quello il problema Il problema Di giochi horror È questo ragazzi Perché alla fin fine In un gioco horror Fai vedere sempre Le stesse tre robe Se si tratta di trailer Quello che vi ho mostrato È il gameplay Non è il trailer Non è l'ambientazione Perché 99 su 100 È sempre la stessa ambientazione La casa Il manicomio Che cazzo ne so Basta Queste sono tutte ambientazioni Sostanzialmente In questo caso Ad esempio Abbiamo le Abbiamo avuto In Lost in vivo C'erano le Le fogne Però lì A me piacciono Quei giochi Che prendono Un tipo di paura E la vanno ad ampliare Ora Lost in vivo Non lo sto giocando Come bisognerebbe giocarlo Perché Nel menu di gioco È consigliato Giocarlo al FOV Quindi La larghezza della visuale A 40 Io lo sto giocando a 90 Perché altrimenti sto male Ve lo dico Mi viene il motion sickness Perché il FOV vuol dire che Se questa è la visuale Ok Copre tutto lo schermo Il FOV a 45 Sarebbe questo Quindi io vedevo soltanto La pistola E poco a destra e a sinistra E quindi Da un po' Da quel senso di 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 Chiuso E di claustrofobico Perché questo gioco Lost in vivo Punta sulla claustrofobia Al di là dei jumpscare Al di là Dell'ambientazione Eccetera Però comunque risulta horror Anche se Abbiamo ampliato la visuale Però appunto Quindi questo puntava Sulla claustrofobia Poi c'è magari C'è un altro gioco Che può puntare su L'arachnofobia Altri giochi Possono puntare Non so Quel cazzo Mi piace di più Quando è specifico Ok Perché ha un senso Questo qua Ora come ora Su quale fobia Può puntare La paura del buio C'è nel senso E poi ci sono gli enigmi Non lo so Non mi dice niente Poi magari un gioco bellissimo Però il trailer Proprio non mi dice un cazzo Ah ecco Ecco I clown I clown I clown I gatti I gatti Ah ma questo che è La classica statua greca Distrutta da Hercules Mentre ci stava provando Con Megara Adesso si apre a metà Ed esce Ade Non sopporto più gli enigmi Ragazzi Non riesco più a vedere gli enigmi Non ce la faccio Più forte di me Nel mentre Mossica Ok Vorrei sapere cosa ne pensi di Control Adesso aspetta Aspetta Adesso ne parliamo Obscur dino se vuoi Ma non è lo stesso Non è questo Non è va bene visto Volevo chiederti la reaction At death of night Ma non va il tasto No dopo un po' finisce ragazzi Facciamo tre reaction a sera Se no Diventa Diventa Uno spettacolo Massimo tre Perdonatemi Hello Neighborhood Si ci ho provato Ci ho pensato Ma poi Più che altro Non è cooperativo Che cazzo serve Un gioco del genere Che non sia cooperativo Però è bello Ho visto effettivamente Ci sta Questa 30 passa euro Un giorno lo porteremo sul canale Si Che ne pensi di Outlast Trial L'abbiamo provato da poco Non penso sia E' Outlast Multiplayer Il problema di Outlast Multiplayer E' che è Outlast Multiplayer Quindi non mi da più di tanto La possibilità di difendermi Devo solo scappare Da due o tre E si incrocia Però ha delle meccaniche interessanti Come il doppelganger E E il fatto che puoi Dare una voce femminile A un personaggio maschio Questo fa molto ridere Sono sincero Ho sentito Sono pazzo io Ragazzi Ma che cazzo succede? Ma che cazzo? Mi si è aperto a caso stima E ha fatto ripartire Il trailer del gioco Vabbè Ogni tanto capita Eh capì però E' un segno Devo giocarlo Giusto Allora invece Cosa ne penso di Che gioco è che mi ha chiesto? Dai Control Control Io adoro I Metroidvani E Control Metroidvani In terza persona Dove intervetti questa pazza Perché non c'è altro modo Per definirlo In questo mondo Abbastanza Onirico E' difficile capire bene Il contesto Del titolo E' avvolto da un alone di mistero Che ti incuriosisce Ad andare avanti Se non fosse che il gioco E' tutto uguale Dall'inizio alla fine La pupazza E' imbattibile Può far fluttuare le cose Può far girare le pistole A me ha fatto girare le palle E l'ho provato su PC Quando a una certa Adesso finalmente vi faccio vedere I gameplay di sfondo Quando a una certa Mi è andato completamente A puttana il gioco E un bug Orribile Di grafica Non saprei neanche come Spiegarvelo Praticamente è comparso Una macchia nera Che si è allargata E non mi ha fatto più vedere Un cazzo Una specie di macchia d'olio Boh Qual è il nome del gioco? Oddio ragazzi Ditemi il nome del gioco Che mi è appena passato di mente Di nuovo Per la seconda volta Control Grazie Non mi è piaciuto molto Devo essere sincero Non mi è piaciuto molto La gente è impazzita Ve lo voleva come gioco dell'anno A me non Non mi ha detto più di tanto Graficamente Non gli si può dire un cazzo Perché graficamente E' un giocone Con queste ambientazioni Tutte quante Minimal Vuote Lei So che l'attrice Che ha interpretato lei È stata molto brava Non so dove cazzo Stia sta bravura Perché Boh Non lo so Remedy Entertainment 505 Games Qui intanto abbiamo La cella Dove tenevano dentro Magneto Vedete La gente vola È tutto Col jazz di sfondo Poi ha un altro Ha un altro senso No ma Twitch Non è una pistola Vera No ma Twitch Non è una persona Vera È un gioco Strano Deve piacerti L'ambientazione Non è veramente Calvo Vedi è tutto un po' A me dopo un po' Ha cagato il cazzo Ma devo ammettere Di non averlo giocato Al pieno delle sue capacità Magari Un giorno Lo 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 riporterò Però Aveva sta meccanica Di gameplay Dove tu devi liberare La zona dal Dal mare Dalla luce Per cazzo Che è Dall'oscurità Che è abbastanza Classico In giochi di questo tipo Però Boh Mi è andato Mi è andato Ad annoiare Velocemente Il che è strano Perché io adoro I metroidvania E questo è un metroidvania Cioè Mappa gigante Collegata Devi fare avanti e indietro Ti potenzi il personaggio Trovando un'arma nuova Un'abilità nuova Poi quindi Puoi accedere Tornando indietro A delle zone Dall'area precedente Che non avevi visto Questo è contro C'è la base centrale Da lì poi esplori tutto Intanto rimetti insieme I pezzi della storia Sta storia Guarda un po' Questi pezzi Non combaciano Non si capisce Comunque una minchia Rimane sempre molto Sul 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 WTF E Quindi non si capisce Non ho neanche ben capito La trama No Sul dislike Più o meno Ah si Domani non c'è la live Vi ricordiamo che domani Non c'è la live Quindi riposate Mangiate Ritornate in forze Buonanotte Chi sta andando Grazie mille No live domani Grazie Grazie Perché Perché non c'ho voglia Mi Mi fermo No sono veramente stanco Ragazzi Sto periodo Quindi mi Domani Lo dico tranquillamente Non è per prendere per il culo Non ho voglia D'altronde avremmo portato Zelda Siccome so che Zelda Frega un cazzo a nessuno E c'è l'off screen Dedicato su youtube A sto punto Zelda per Zelda Ve lo beccate domenica Con off screen E' buona Come programmazione Mi ciapo Sto giornatina in più Faccio il weekend lungo Come voi D'altronde Bastardi E Ci vediamo direttamente Il lunedì Ma a me interessa Ma assolutamente Ma interessa Interessa Però Diablo esce martedì Esatto Noi potremmo giocarlo Da domani Ma esce martedì Quanto dura La live più o meno Ma tra 6 minuti Finisce Twitch Si spegne Eh Tunic Lo so Lo so Tunic Tornerà E' là E' là Ragazzi Sto esplorando Il sottosuolo di Zelda Cioè Voi non avete idea Di cosa ci si vede Cosa ci si trova Là dentro Ve lo dico io Il buio Non c'è un cazzo Però è spettacolare Quel gioco È spettacolare Sono curioso Di scoprire I prossimi Horror Giochi in coop Arriveranno Ho dimenticato Zelda Casa dei miei Ma no L'hanno fatto apposta E' mai parlato Il gioco Omori Si C'è anche un piatto Se non sbaglio A base Di pesce Crudo Cosa ne pensi Degli alberi Che si muovono In The Legend of Zelda Madonna Madonna E' un'ansia Continua Non so più Cosa è vero E cosa è falso In quel gioco O vivi O muori Grazie Ma diabolo Lo porterete Sì sì Solo che Io spero Mi tenga Il salvataggio Dell'altra Presidente partita Ragazzi Perché con Andrea Siamo arrivati In la prima città Io non ho voglia Di rifarmi Un'ora Io sono fatto così Io non ho voglia Di perdere tempo Allora A meno che sia Il gioco più bello Del mondo Io non ho voglia Di rifarmi il tutorial Mi cago il cazzo Soprattutto non ho voglia Di rifarlo in live Cosa ne pensi Di Raul Ha un bel pizzetto E' un sottone Sottone Dell'altra tizia Però è un bel pizzetto Ma tra l'altro Una cosa che vorrei Una piccola critica Che vorrei muovere A questo Zelda Tears of the Kingdom Ma perché i personaggi Sono sempre più rincoglioniti Ad ogni Zelda Che si va avanti C'è Zelda ci ha messo Letteralmente Cinque video Per capire Che è tornata indietro Nel tempo Io l'ho capito Cinque minuti dopo Verrò vista cadere Nel vuoto Nell'oscurità Ma che cazzo Ma anche basta Quei personaggi Che fan finta Di pensare Probabilmente è successo Che sei tornata indietro Nel tempo Ma grazie al cazzo Ah perché è bionda Ok No ma sei sempre Più rimbecillita Cioè è grave Cioè a me dispiace Per Link Era meglio Zelda Breath of the Wild Tears of the Kingdom Come aspetto Cambia un cazzo Cambiano solo i capelli Quindi Non ti saprei dire Esteticamente Preferisco i capelli lunghi Vedi La vecchiaia Che ti dispiace Se le scelta Bella e stupida Ah Staresti bene I capelli lunghi Li avevo Lunghi fino al culo Perdi Sono sempre stata Una persona estrema La delicatezza del maestro La bomberei A prescindere Hai mai pensato Se a lei Accetta o no A me Zelda Sta leggermente Sul cazzo Oh Finalmente Qualcuno che lo dice Ascomi io non sono Vittima dei pixel Come rincoglioni Itoli Devo essere sincero Che ci sono personaggi Che non è che Devo accettare Per forza Perché Riportano il nome Del videogioco Francamente Francamente Mi sta un po' Sul cazzo Zelda Non l'ho mai sopportata Non l'ho mai sopportata Ragazzi Lo dico tranquilla Mi dispiace Per Link Come non sopporto Peach È la stessa roba Detto ciò Oh figa Bisogna ammettere Che Non so Per quale motivo Tendono Forse perché Vogliono fare La roba Un po' Classica Giapponese Dove ci sono Dove Se sta succedendo qualcosa C'è quel personaggio Riflessivo Che è messo così Che ti sta spiegando Quello che stai vedendo Perché tu sei un ebete E non potrai mai capirlo Da solo Giapponesi E dall'altra parte C'è il personaggio Imbecille Che nonostante Tipo Mi agonatevi Dragon Ball E Junior Che nella parte Spiega quello che Cazzo sta succedendo A Goku E dall'altra parte L'imbecille Appunto Goku Che nonostante Stia facendo le cose E le stia risolvendo E stia salvando la terra Per l'ennesima volta Si chiede che cazzo Stia succedendo Nel mentre che lo fa E Zelda è uguale Nel mentre che lo fa Non capisce un cazzo Di quello che sta facendo Poi c'è il personaggio A fianco riflessivo Che solitamente Raul Che gli dice Sei tornata indietro Nel tempo E l'altra personaggia La tizia Una dei primi re Però la storia è più figa La storia è molto figa I primi re di Hyrule Che gli dà I colpi sul batacchio Per dire No non fare certe domande No non dirgli certe cose Che poverina si offende Non sia mai Una lore interessante Sì È la logica giapponese È così che una conversazione Classica Avviene in Giappone Bisogna mettere Che Link è migliore È muto Quindi Sì Mi sta simpatico Non ho mai giocato alla Switch Perché sono povera Ma è strano che Andrea Non abbia mai giocato Beh provato Non ha portato Animal Crossing Essendo simulatore di vita È anche vero Che è leggermente trash No Gliel'ho detto Più volte di portare Animal Crossing Non penso l'abbia portato Perché ci sono giochi e giochi Ragazzi Ci sono alcuni titoli Che In live Possono risultare noiosi Da vedere Animal Crossing È un gestionale Che Ha Quel suo lato Cinico E divertente Perché sei indebitato Con lo stronzo del villaggio Però di per sé Che due palle Cioè Guarda come costruisco Il mio villaggio Sti cazzi Ve l'ho detto Se una volta all'anno La Nintendo Senza dire niente Rilasciasse una patch 18 o più Dove i personaggi Di Animal Crossing Con le palle Con i rettini Con quello che hanno in mano Iniziano a sbudellarsi Una volta all'anno Senza dire niente a nessuno Sorpresa Tu apri Animal Crossing E vedi personaggi Che si aprono Che si sbucciano Ecco A quel punto Secondo me Animal Crossing Potrebbe essere godibile Io vorrei vedere Andrea Con i giochi entai Ma è incredibile Guarda caso Proprio in questo preciso istante Ha appena caricato Diversi video Su Pornhub Diversi gameplay La DLC La notte del giudizio Sarebbe figo Il maestro non delude Esatto È mai giocato A Sully Face? No Ma non Aspetta che sto cercando Di ricordarmi che cos'è Non me lo ricordo Aspetta Perché l'ho già sentito Mille volte È quello lì La macabra storia Di Sully Face Ce lo dice Che noia Perfetto The Long Gamer Attenzione Con 131.000 visualizzazioni Dieci mesi fa Sully Face Episodio 1 Ah ho capito Che gioco è Sì 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 Eh no Non l'abbiamo mai giocato Però lo volevo portare Che l'ho disegnato a mano Sì sembra carino Chissà quale lore incredibile che ha Madonna come hai disegnato male però Ma sì un giorno perché no Potremmo provarlo C'è una ragazza che si taglia Con un coltello Quindi immagino Che il 90% di noi Si possa medesimare Allora bestiace Noi ci vediamo lunedì a E Alle 21.30 Mi raccomando siateci Il 12 giugno alle porte Vi regaliamo una Switch Hold Mi raccomando siateci voi Soprattutto voi sub Il 12 giugno Siateci perché faremo l'estrazione Uno di voi se la porta a casa Poi arriva Diablo Poi continuiamo l'Oror Night Con Lost in Vivo Continueremo Ci sarà una serie Una nuova serie cooperativa Col maestro Non vi dico niente Indovinate perché Non perché sia una sorpresa Ma perché non abbiamo ancora deciso niente Noi improvvisiamo lì per il momento Proprio così La domenica Che facciamo? Non lo so Questo è solitamente Sulle nostre conversazioni Quindi preparatevi Arriveranno robe nuove Comunque ci impegniamo Per passare una bellissima serata insieme Ogni sera Domani vi ricordo Che non c'è la live Quindi niente Ci riposiamo Facciamo le weekend lunghe Ci becchiamo lunedì Va bene? Ci becchiamo Sono proprio un ragazzo Di strada Vi voglio bene bestiace Grazie per tutto Grazie per la vostra disponibilità Per il vostro tempo Per la vostra compagnia Vi voglio bene No woman No live Ma che succede stasera? Vabbè Buonanotte Vi voglio bene Quante volte ve lo devo dire? Grazie per la vostra Grazie per la vostra Grazie per la vostra